76esimo Festival Nazionale di Arte Drammatica. Al Teatro Rossini, dal 16 al 29 ottobre, torna il Festival GAD, la più antica e seguita rassegna di teatro non professionistico in Italia. 8 spettacoli in concorso, 2 spettacoli per ragazzi e 4 eventi speciali. 2 settimane per ridere, piangere ed emozionarsi. Vivi la magia del teatro assieme a noi!